Falmar. Più classe al lavoro, più valore alle idee. Storia. Dal 1990, Falmar è specializzata nella produzione di pareti divisorie, attrezzate e mobili per ufficio, puntando sul design moderno e funzionale e offrendo alla propria clientela una forte immagine legata all'alto valore qualitativo dei suoi prodotti. 1990, Falmar nasce nella zona produttiva di Pesaro, Marche, Italia, Pesaro, polo dell'industria del mobile e di lavorazione del legno, di importanza nazionale e internazionale. Mission. Falmar realizza arredamenti completi per ufficio e propone soluzioni innovative interpretando la continua evoluzione del mondo ufficio. Le realizzazioni sono personalizzate con finiture prestigiose e gradevoli giochi di trasparenza. Le eleganti pareti divisorie si integrano con la funzionalità degli elementi d'arredo. Prodotti. Sistemi pareti. Mono vetro e doppio vetro. L'ambiente di lavoro diventa un luogo ben organizzato dove gli spazi sono gestiti con ordine e chiarezza. Reception. Quadra. Accostamenti di assenze e laccati e luce. Mood. Vetro e melaminico. Operativi. Dream. Condiviso. K3. Operativo integrato innobilitato. Direzionali. K6. K9. K10. Nelle finiture in essenza di vero legno e pelle. Direzionali. K5. Prime. Zaffero. E Director. Realizzati invece nelle finiture in laminato e vetro laccato. Sedute. Ogni seduta è realizzata con cura artigianale e con materiali di prima qualità. Strategia. Ricerca e sviluppo. Falmar è in continua ricerca di materie prime selezionate per avere prodotti sempre più performanti. Plastiche sempre più duttili e vernici di finitura altamente tecnologiche. Prodotti che anticipano le esigenze del mercato. Professionalità e qualità. Sistemi di qualità Unien ISO 9001. Sviluppo tecnologico e qualitativo per un miglioramento continuo. Soluzioni originali, funzionali e confortevoli negli spazi di lavoro. Ambienti di lavoro eleganti e funzionali nel rispetto dell'ambiente. Staff tecnico interno altamente qualificato. Progetta, realizza ed installa prodotti con finiture ad alto standard qualitativo. Decenni di esperienza maturata. Realizzazione studi di fattibilità, progetti di piante, layouts e preventivi analitici. Falmar affianca il progettista sin dalle prime bozze. Ecosostenibilità. Prodotti conformi alle normative vigenti in termini di sicurezza e salute per l'emissione di formaldeide. Produzione sartoriale. Creazione su misura di pezzi unici e personalizzati. Made in Italy. Falmar nel mondo. Grazie a tutti.